16 dicembre 1966. A Pechino vengono pubblicate le citazioni dalle opere del presidente Mao Tse Tung. In Occidente il volume sarà conosciuto come il Libretto Rosso. Durante la rivoluzione culturale, lo studio del Libretto Rosso diviene materia scolastica in tutti i gradi di istruzione, così come in tutti i luoghi di lavoro. Oltre che nell'esercito cui è originariamente rivolto.